Oggi ripassiamo il senato, eh? Ma non l'avevamo abolito? Ma no, cambia soltanto che i cittadini non lo leggono più direttamente. Iniziamo male con il passo, eh? No, 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 ce l'ho. Il senato ce l'ho, ce l'ho. Allora, allora, partiamo con la composizione, sì. Allora, con la riforma i senatori passano a 100, di cui 95... Rappresentativi delle istituzioni territoriali. Bravo! E gli altri 5? Gli altri 5 nominati direttamente dal presidente della Repubblica. Bene, bene. E quindi parliamo della riduzione dei costi della politica, che piace sempre a tutti. E poi... Ma perché i rappresentanti delle istituzioni territoriali? Perché i senatori saranno sindaci e consiglieri regionali. Ah, beh. Ma quindi avranno un doppio lavoro. Riunione col capigruppo! Consiglio regionale! Discussione di D.N. e matrimonio da ufficiare! Ma quindi come si fa? Comiquità. E quanto dura un mandato dei senatori? Beh, dipende da che sono sindaci e consiglieri regionali. Quando ti scade il mandato territoriale, o quando si dimetono, o dimetti che cade l'aggiunta, allora decade anche la nomina senatoriale. Ma... ma quindi? Quindi la composizione del senato cambia in continuazione? Ma noi non possiamo fare una cosa del genere il 12 dicembre? Ma... ma la rispondiamo! Ma... tenete... tenete conto dei costi? Tenete conto di quelli che sono i costi? Ma che è successo? Deve essere scaduto il mandato! Oddio, anche da noi ci sono le elezioni! Immo, aspettiamo i prossimi. Ma questo è un disastro! No! E liquidità? Liquidità! 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 Eh, esatto! Liquidità! E perché è necessaria? Perché così... Li devi arrivarti! Sei fermato! Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? Aiuto! Aiuto! Ehi! Abbiamo una riunione! C'è qualcuno? Sì! C'è qualcuno? C'è qualcuno?